Siamo in compagnia di Marina Roma a Marcallo, presso la Sala San Marco. Cosa c'è stasera in corso? Allora, stasera c'è l'ultima serata della rassegna letteraria che abbiamo organizzato come assessorato alla cultura in collaborazione con la Proloco, un percorso nuovo che abbiamo avviato e che proseguiremo nel tempo. Abbiamo pubblicato il programma delle manifestazioni culturali all'interno del quale c'è questa serie di serate di presentazioni di libri con gli autori e quindi stasera abbiamo l'ultimo testo, presentazione del libro che verrà addolcita e colorita da questo accompagnamento musicale che sentiamo in sottofondo e dalla lettura di alcuni brani fatti da un attore.